Affidarsi ad una wedding planner? Vediamo quali sono i vantaggi. Immagina il giorno del tuo matrimonio senza intoppi, gli invitati che pensano solo a divertirsi, tavolate su cui c'è sempre cibo e le giuste bevande, ma soprattutto al tuo matrimonio dovrai pensare solo a goderti il giorno più bello della tua vita, senza dover pensare se i tuoi ospiti hanno fame o hanno sete, senza dover pensare a quando sarà il momento giusto per il taglio della torta, senza dover pensare a gestire la scaletta del tuo evento o gli imprevisti o anche all'improvvisate dei tuoi ospiti. Quindi affidarsi ad una wedding planner potrebbe essere l'investimento più rilevante per vivere il tuo matrimonio da sogno. Nel prossimo video ti darò alcune preziose idee per intrattenere i tuoi ospiti.